Salve a tutti ragazzi, sono Sam PrimoManzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con il secondo episodio della nostra carriera allenatore con il West Ham. Spero vivamente che il primo episodio vi sia piaciuto, io sto registrando questo praticamente in successione al primo episodio. Perché è venerdì, questo partirò e non ho tempo per cercare di riempirvi almeno per quanto possibile la settimana in cui starò via. Quindi cercate di capirmi ma dai prossimi episodi riuscirò comunque a seguire i vostri consigli. Quindi mi raccomando ragazzi, andrò a vedere tutti i consigli che mi avete lasciato nel primo episodio e controllerò quelli chiaramente lasciati sotto questo video. Mi raccomando ragazzi, vi rinnovo la sfida, 3500 mi piace e arriva la maglietta del West Ham. Mi raccomando ragazzi, ci tengo. Ci tengo perché ormai è diventata una tradizione avere la maglietta delle squadre con le quali faccio la carriera allenatore. Quindi mi raccomando, spaccate il tasto del mi piace. Come sempre ragazzi, l'inizio di una nuova carriera vuol dire fare le cose con calma. Quindi secondo me oggi ci giocheremo le due partite, faremo un po' di calcio a mercato ma non più di tanto. Anche perché ragazzi, devo aspettare completamente i vostri consigli. Però dalle live su Twitch ragazzi è venuta fuori una cosa molto importante. Ovvero che Tierney per voi è veramente un grande terzino. Vi ho chiesto qualche consiglio. Me l'avete consigliato in realtà in tantissimi nella carriera allenatore che faccio su Twitch. Mi avete detto che va come un treno. Mamma mia, effettivamente avete ragione ragazzi. Non ci avevo guardato. Tierney va veramente, ma veramente come un treno. Potenziale velocità scatto 99, accelerazione 89. È bello aggressivo anche, resistenza ottimo. Può migliorare in forza e reattività però ha dei dati spaventosi ragazzi. Anche il cross per un ragazzo di 21 anni è già messo bene. Si può allenare ancora un pochettino. Io penso che Tierney potrei allenarlo ragazzi. Tra l'altro è importante perché ti può fare tutta la fascia nel caso ragazzi. Ti può fare anche l'esterno a sinistra o il difensore centrale. Io vi dico la verità. Farei un tentativo per questo ragazzo. Andiamo, proviamo a contattare il Celtic per Tierney. Allora ragazzi, non ho la più pallida idea di quanto possa valere. Vediamo se riusciamo a fare uno scambio con Criswell. Criswell vale 6 milioni. Io penso, sono sicuro al 100% che Tierney, secondo me, sui 15 milioni, poco meno di 20, possa valerli. Quindi speriamo magari siano contenti, accettano ragazzi, questo scambio. Noi abbiamo già la possibilità di portarcelo a casa con 13 milioni e 300. Sono disposti a prendere in considerazione questo scambio. Io però faccio una controfferta ragazzi, perché devo fare tanto calciomercato. Ho tanti ruoli leggermente scoperdi. Quindi io faccio un'offerta nuova per il cartellino e vado a 9 milioni e 500. Potrebbe essere già la svolta. Vediamo un po'. Loro si sono abbassati ragazzi. Loro si sono abbassati. Ci alziamo a 10 milioni. Vediamo un po' cosa ci dicono. 10 milioni più Criswell. Uh, sono fermi sul loro prezzo. Però come ben sapete ragazzi, io difficilmente do sempre quello che mi chiedono. 11 milioni e 500 più Criswell diventano 17 milioni e 500. Dovete accettare. Sì raga, sì, hanno accettato. Finalmente ragazzi, dopo avergli fatto il contratto, posso finalmente provare questo giocatore. Io direi ruolo importante. Ok, perfetto. Durata contratto 5 anni, è ottima. Io però ragazzi non metterei la clausola recessoria. Bene così. E adesso queste sono le richieste del calciatore. Per fortuna effettivamente che ce le fa lui le richieste. Perché non avrei idea di quanto potergli dare. Io penso che così sia onesto. Si sono alzati di pochissimo. Ragazzi, accettiamo. Accettiamo. Questo è il nostro primo acquisto di questa nuova carriera. Tierney signori, terzino sinistro, all'evenienza ti fa tutta la fascia sinistra, all'evenienza pure difensore centrale. Finalmente posso provare questo giocatore che in tantissimi di voi mi avete consigliato. Lo vado subito a inserire nella formazione titolare, ragazzi, al posto di Masuaku. Ricordo, oltre che abbiamo venduto Criswell in questa operazione, Tierney ha già lo stesso overall che aveva Criswell. E ha già un punto overall in più di Masuaku, ragazzi. È veramente, ma veramente formidabile. Questi sono già i suoi dati. Sono veramente, ma veramente mostruosi. Bene così. E il primo colpo l'abbiamo piazzato. C'è ancora tanto da fare, ragazzi. Intanto qui mi è arrivata un'offerta per Andy Carroll. Visto che io non ho la più pallida idea di quello che mi avete consigliato voi. Vi dico la verità, la vado a trattare, ma gli chiedo più di 9 milioni. Chiediamogli esattamente 2 milioni in più. 9 milioni e 500, visto che comunque il Burnmouth è una squadra che ci mette un po' in pericolo, ragazzi. Sono saliti tanto. Sono saliti veramente, ma veramente tanto. Io rimango di questa idea. 9 milioni e 400. Uh, ragazzi, hanno accettato. Beh, direi che 9 milioni e 400 sono più che onesti. Ok, ci arriva un'altra offerta per il trasferimento. Ma aspettavo onestamente tutte queste offerte, ragazzi. Il vero problema è che i giocatori sono più o meno di età avanzata, tra virgolette. Hanno tutti 28-29 anni. Vedi Carroll, vedi appunto Snodgrass. Questo Snodgrass, ragazzi. Esterno destro, 76, 30 anni. Che all'evenienza può fare entrambe le fasce e il centrocampista centrale. Ma non sono convinto. A destra preferisco dare spazio a Yarmolenko, che comunque ha 28 anni. Ok, va bene. Ma soprattutto abbiamo anche Antonio e Diangana. Io penso che sulla destra siamo a posto. Snodgrass sarebbe veramente, ma veramente lì. Messo lì, inutile. Perché non lo utilizzerei. Quindi a questo punto vado a trattare anche questa offerta trasferimento. Possiamo chiedere fino a 8 milioni e 700. Ed è il Crystal Palace che ci fa questa offerta. Quindi, ragazzi, sempre la nostra diretta concorrente. E anche qui, ragazzi, vi dico la verità. Mi alzo. 9 milioni e 800 per Snodgrass. Tanto penso che altre offerte mi arriveranno. Si sono alzati, ma non arrivano ai 9 milioni e 8 che ho chiesto. Quindi io mi abbasso. 9 milioni e 6. Vediamo un po' cosa ci dicono. Hanno accettato, ragazzi. Stiamo vendendo i nostri giocatori a più di quanto potremmo chiedere. E per il momento sono contento così. Abbiamo venduto Gbonna ufficialmente. Ci entrano 7 milioni. L'abbiamo venduto al Watford, ragazzi. Però questo è. In realtà l'avevamo venduto a 9 milioni e 200. Molto, ma molto bene. Rifiutato l'offerta di prestito per il portiere giovane Trott. Ce ne arriva un'altra da Wolfsberger. L'andiamo ad accettare. Ho inserito nuovi giocatori, ragazzi. Nel hub mercato. Li andremo a vedere dopo. Prima voglio assolutamente andare a provare qualche altro giocatore. In questa partita contro il Colonia. Nella prima stagione, ragazzi. È sempre importante giocare queste partite di precampionato. Perché bisogna capire come sono messi i nostri giocatori. Chi abbiamo in squadra. E quali sono i potenziali e le possibilità di questi calciatori. Quindi, ragazzi. Prima da titolare per Tierney. Io direi, ragazzi. Che possiamo far sedere in panchina Arnautovic. E dare una possibilità a questo Perez qui. E poi anche Antonio lo teniamo in panchina. Perché lo facciamo entrare. Molto bene, signori. Ci andiamo con questa formazione. Sempre sul pezzo. E forza West Ham. Attenzione a Tierney che vince un contrasto. Bravissimo Tierney. Vai fino in fondo. Vai fino in fondo. Trenino mio. Mettila bene in mezzo. Non è male il cross, ragazzi. Wey. Wey, wey, wey. Non era per niente male il cross, ragazzi. Se avessimo messo più giocatori in aria, forse sarebbe andato alla grande. Attenzione a Lanzini. Se avessimo sul destro Lanzini. Lanzini prova il destro Lanzini. Barters la para, ma Lanzini viene steso. Attenzione perché Felipe Anderson si va a prendere il pallone. Fammi vedere un po' i nostri tiratori. Felipe Anderson però ha pochissima precisione. Perez sarebbe quasi messo meglio, ragazzi. Questo non è per cattiveria, ma proviamo un attimo Perez col manciolo. Va Perez! Perez! E costringe il portiere avversario al miracolo. Che bella punizione di Perez, raga. Che parata, veramente che parata. Con un pochettino più di potenza, raga, questo andava in porta. Easy. Attenzione a Tierney. Col mancino Tierney. Poi col destro Tierney. L'ha sbloccata proprio lui. Trenino Tierney, ragazzi. Trenino Tierney. Che gol! Col destro! Rivediamo qui. Gli capita il pallone dopo un passaggio. Si prova col mancino. Era uscito poi una bella bomba, eh. Ma anche col destro. Preciso, preciso. Sblocchiamo il match. Proprio con il nuovo arrivato. Alla sua prima partita non ufficiale da titolare. Però non è importante perché questa competizione ci porterà sicuramente qualche soldo in più. Attenzione bellissima. Questa palla di Rice per Lanzini. Dopo il grande stop di Perez. E poi Lanzini col destro. 2-0. West Ham. Scusate se mi sono bloccato ma non mi ricordavo più che aveva fatto lo stop. Bene così, raga. Che grande azione. Ci serviranno tantissimo gli inserimenti di Lanzini, raga. Ma questo Perez qui mi sta sorprendendo. Vi vediamo qui grande palla di Rice proprio per Lanzini. Che davanti al portiere col destro. Non era facile ma non ha sbagliato. 2-0, raga. Occhio qui. No, che buco. Ma che buco. Pensavo fosse fuori gioco. Il Colonia la riapre, ragazzi. Il Colonia la riapre con Hector. Chi è? È Hector questo? Proprio lui, ragazzi. È proprio Hector. Non ho ben capito cosa è successo in questa occasione. Colpo di testa forse casuale del nostro difensore centrale. E Hector se l'è ritrovata lì col mancino a bucato Fabianschi. Attenzione, ragazzi. Non facciamoli pareggiare. Finisce qui, signori. Ci portiamo a casa anche con questi tre punti. Grazie ai gol di Tierney e Manuel Lanzini. Andiamo avanti perché, ragazzi, le votazioni secondo me sono ottime. Molto bene Lanzini. Migliore in campo. Benissimo Rice. Benissimo Perez. Benissimo Tierney, ragazzi. Mi sono piaciuti veramente tutti. Mi sorprende sempre Zabaleta, ragazzi. Io qui adesso ho veramente tanti dubbi perché Perez mi ha sorpreso. Arnautovic non mi ha dispiaciuto da esterno sinistro. Antonio appena entrato ha subito sfoderato il destro. Adesso Antonio vorrei provarlo come prima punta, ragazzi. Io penso di stare facendo esattamente come fanno gli allenatori in precampionato. Ovvero, si provano i giocatori, si provano soluzioni nuove. Così, all'improvviso, ragazzi, ci arriva la notizia della cessione di Snodgrass per 9 milioni e 600. Ci entrano 7 milioni e 500. Soldi veramente, ma veramente ottimi. Allora, ragazzi. Abbiamo venuto Carroll. Ci entrano 7 milioni e 500, ragazzi. Un po' mi dispiace, perché Carroll forse è un simbolo del West Ham. Però sti cazzi. Anche sti cazzi. Salta questa offerta di prestito anche per Trot, nel frattempo. Quindi penso che Trot ce lo teniamo ed è un bug, è un baghetto. Abbiamo reso conto per questo portiere d'alberg, quello del Watford. E poi offerta per il trasferimento di questo MacCasi, che onestamente, vista l'offerta, vado ad accettare. Allora, ragazzi, vi faccio vedere l'hub mercato. Un po' si è aggiornata, ragazzi. Ho pensato a qualche colpo interessante. Poi magari fatemi sapere se siete d'accordo. Ho inserito come portiere anche un'ana. Così, nel caso serva un portiere. D'alberg è un 67. Come detto, a me servirebbe un portiere da allenare. Ho inserito Deligt, così a caso. Così, perché non l'ho mai provato. E Diallo, che ha una clausola recessoria. Nel caso avessimo bisogno di un difensore centrale, Diallo potrebbe fare al caso nostro. Abbiamo poi un Fabinho 84, che costa una valanga di soldi. Però ci potrebbe essere anche questo Ndidi, come centrocampista difensivo, che si potrebbe tirar via a una cifra onesta. Ho messo a osservare Zobnin, Hendricks, Ziegenkov, Alejo. Poi ho messo Perepons, signori. Quello che mi ha fatto gol del Girona. Potrebbe essere un centrocampista che nessuno, nessuno ha mai comprato. Potrebbe essere un colpo così. Stravagante. Basic, Rodri. Rodri, quanto lo vorrei, ma si è appena trasferito. Fabian Ruiz. Anche lui, purtroppo, si è appena trasferito. Ho inserito anche Lobotka, perché mi serve, ragazzi, un centrocampista difensivo. Huameni, che però purtroppo si è appena trasferito. Zakaria Orar, che potrebbe fare anche l'esterno-sinistro Orar, quindi attenzione. Abbiamo Riccardo Horta, Ronnie Lopez, Dilrosun, Olmo e João Mario, come trequartisti. Ho inserito adesso anche Aritte e Zayec. Poi abbiamo Richarlison, Gurri e Timothy Weah. Attenzione, perché c'è questo Antonio Marin, che ha 17 anni, può fare l'ala sinistra da un trequartista. Che non è male, ragazzi. Ha un potenziale, insieme ad Hudson Odoi, veramente, ma veramente bestiale. Quindi, visto questo hub mercato, fatemi sapere cosa ne pensate. Io adesso proseguo, perché voglio giocare anche questa partita contro Leibar. E ci vado subito. Signori, ci andiamo con questo 11. Ho messo in porta Trott, Tierney, c'è ancora Zabaleta sulla destra. Onestamente, potremmo provare l'altro terzino destro. Fredericks, mi sembra, si chiami. Esatto, eccolo qui, Fredericks. Proviamolo, visto che comunque Zabaleta mi ha convinto. Resterà con noi per questo anno. Proviamo Fredericks. Andiamo in campo, c'è Cucureia, sempre sul pezzo. E forza, West Ham. Se Rice si è inserito Lanzini, Rice lo serve perfettamente. Lanzini davanti al portiere. Lanzini! Non sbaglia mai Manuel Lanzini. 1-0 West Ham. Che palla di Rice, però, signori. E questo centrocampista, mi sa, mi sa che è già pronto per fare il titolare. Guarda che bella palla di destro. Il difessore è uscito un po' maluccio. Poi vabbè, Lanzini non sbaglia. Non può mai sbagliare Lanzini. Stasera di Antonio si è inserito. Yarmolenko, bellissima la palla. Cucureia prova a fermarlo. Yarmolenko col destro. La palla non entra. La palla non entra. Attenzione a Tierney che recupera un gran pallone. Mamma mia, Trenino Tierney. Bella la palla qui per Silva che entra in aria. Silva! Col destro Silva. Non dirmi che abbiamo scoperto un'altra Gemma nascosta, ragazzi. Perché se anche Xande Silva gioca così, veramente è un casino. Attaccante esterno destro e esterno sinistro. Qui ancora Tierney, fondamentale nel recupero palla. Ho passato un po' a caso di Lanzini, ma Silva prende posizione, tiene palla e sfodera un destro potentissimo. Attenzione a Noble, bellissima la palla per Silva. Silva davanti al portiere. Silva! Silva doppietta! Silva doppietta, raga. Silva doppietta e io, boh, non lo so. A questo punto mi serve ancora l'esterno sinistro? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Adesso ci sono i veri dubbi. Adesso ci sono i veri dubbi. Perché? Cavolo. Perché cavolo. Non so neanche più se vendere Antonio, i vari Perez, eccetera, ragazzi. C'è un attacco, abbiamo Arnautovic, Hernandez, Antonio, Perez, avevamo Carroll. Non so come comportarmi. Adesso ci ho più dubbi di prima. Bravo, qui. Bravi, 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 bravi. Non sono riuscito a leggere il nome, ragazzi, ma hanno fatto veramente una bella azione. Cross in mezzo, sponda di testa, di prima intenzione. Non ci ha pensato due volte a calciare, Charles. Finisce qui, signori. Vinciamo anche questa partita con tante sorprese. Tante sorprese che non mi aspettavo. Benissimo Fredericks, terzino destro. Benissimo Silva, uno dei migliori in campo. Ancora Lanzini il migliore. Benissimo Rice, signori. Benissimo veramente tutti. La squadra sta girando. La squadra sta girando. Io potrei anche concludere qui l'episodio, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo. E adesso i dubbi sono sempre legati all'attacco, perché... Non lo so. Non so. Mi sa che forse serve l'attaccante definitivo. Forse serve l'attaccante definitivo. Sono sincero, ragazzi. Perché abbiamo tutti dei buonissimi... Abbiamo dei buonissimi attaccanti. Nessuno di quelli mi sconquinterà abbastanza. Tutti però sono positivi. Sono stati positivi in questo torneo per il campionato. Ci sono ancora delle partite da giocare. Che mi potranno schiarire le idee. Io aspetto i vostri consigli, ragazzi. Mi raccomando. Oggi abbiamo fatto il nostro primo acquisto. Decisamente, decisamente promettente. Ma già sul pezzo, ragazzi. Perché Tierney è già sul pezzaccio. L'abbiamo visto. Trenino Tierney. Detto questo, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi piace, un commento, un consiglio. Mi raccomando, sotto nei commenti. Tanti consigli. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a mezzo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.